Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Aria molto fresca proveniente dal nord Europa sta rapidamente scivolando nel Mediterraneo e sta favorendo un graduale calo delle temperature e anche l'arrivo di qualche acquazzone o temporale al centro e al sud. Nel corso di questo venerdì avremo un ulteriore calo termico su tutta Italia, in particolar modo sul versante adriatico e proprio qui avremo i fenomeni più diffusi presenti, temporali anche di forte entità in estensione al meridione. In Abruzzo un venerdì complessivamente perturbato con tante nubi per quasi tutta la giornata. Ci aspettiamo anche delle piogge persistenti a tratti di forte entità e qualche isolato temporale soprattutto sulle aree costiere. Entrosera avremo un graduale miglioramento del tempo a cominciare dai settori più settentrionali della regione. Le temperature come detto in marcato calo notate le massime tra i 24 e i 27 gradi quindi di oltre 8-10 gradi inferiori ai valori della scorsa settimana. Scendono anche le minime che si portano tra i 15 e i 22 gradi. Con questo è tutto grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.